Si avvicina sempre di più l'esordio nel campionato di Serie C1 nazionale per la formazione senior dell'SD Rugby Gubbio 1984. La squadra guidata dal tecnico Francesco Rossi, dopo un periodo di due mesi di preparazione molto intenso, che ha visto il gruppo lavorare con grande determinazione e spirito di sacrificio, inizierà l'annata agonistica domenica sul campo dell'amatori Rugby Cecina, con fischio di inizio alle ore 15.30, con l'obiettivo di cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione che vede i lupi inseriti nel girone F Centro Italia, insieme a sette compagini toscane, tra cui anche la formazione dell'Isola d'Elba, i laziali del Viterbo, il città di Castello Rugby e anche l'Olbia. E proprio contro i sardi, la prossima settimana è fissato il primo impegno al coppiolo del 15 Gubino, deciso a provare a recitare ancora un ruolo da protagonista anche in Serie C1. Stiamo venendo già da tre giornate di programmazione amichevole prima dell'inizio del campionato, sono andate tutte e tre bene fortunatamente. Abbiamo intenzione di fare sicuramente bene anche perché veniamo dallo scorso anno che noi siamo qui, io capitano già da tre anni e al secondo anno che più o meno la squadra è in mano con il mio staff che è veramente fantastico. Abbiamo Cecina subito che io personalmente ci ho già giocato venendo da ormai diverse stagioni. È un test molto impegnativo perché loro sono veramente messi bene, è una squadra organizzata e noi ci stiamo allenando già da diverso tempo per poter fare il meglio possibile. Con il lungo termine abbiamo già fatto una bella programmazione di medio termine, cercheremo di arrivare perlomeno tra le prime cinque in questo campionato che effettivamente è abbastanza duro perché siamo comunque undici squadre, il calendario è veramente serrato, venti partite, i ragazzi sono per ora messi bene, ci stiamo allenando forte. Tornano in campo sempre domenica anche le formazioni giovanili rosso-blu. L'under 18 del tecnico Mirko Pauselli gioca a Fano puntando a riscattare la sconfitta casalinga della scorsa settimana rimediata contro Pesaro, mentre l'under 16 di coach Giuliano Bossi scende in campo a Foligno, forte della bella vittoria ottenuta nello scorso turno in casa contro Italica e sono iniziati intanto al campo del Coppiolo anche gli allenamenti della formazione under 16 femminile, una delle molteplici iniziative che l'associazione sportiva Gubina promuove assieme al torneo Old di rilevanza nazionale in programma sabato 26 ottobre al Coppiolo e le attività dei corsi e nelle scuole cittadine. Il torneo Old che giocheremo appunto presso il nostro impianto sabato 26, sono dieci squadre dal centro Italia che ci vengono a trovare e faremo poi la festa la sera. L'altro è i corsi di rugby che li continuiamo comunque sia a proporre nonostante sia un buon afflusso e l'attività anche nelle scuole che dovremo iniziare nel mese di novembre.